C'è stata la lezione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, alla scuola normale di Pisa. C'era stata qualche contestazione prima dell'intervento, al momento dell'annuncio. Boschi ha parlato di pari opportunità e di diritti, soprattutto alla femminile, ma non solo. Ha citato Roosevelt e Kennedy, contrapponendo la loro visione profetica alla chiusura di Trump. Perché se è vero che questo è un tempo caratterizzato dalla paura, è preoccupante che chi ha la responsabilità di governare faccia della paura la propria linea politica. Cavalchi la paura per impegno politico. Ha detto il sottosegretario, che poi ha parlato proprio dell'essere donne e degli attacchi ricevuti dal presidente della Camera Boldrini e dal sindaco di Roma Raggi, attaccate, secondo la Boschi, proprio perché sono donne. e poi alla provocazione di un professore della normale sulle unioni civili portato avanti dal precedente governo a quello guidato da Matteo Renzi. Ha detto chiaramente, l'ipotesi appunto del professore era che Dante avrebbe messo la Boschi all'inferno. La sua risposta con una battuta sarà certo in buona compagnia.